Il cielo terzo e un panorama mozzafiato hanno fatto da cornice alla prima edizione di Banca e Famiglia della BCC che si è tenuta sabato 23 giugno alla Villa del Bali di Saltaro. Un intero pomeriggio dedicato ai neogenitori che hanno avuto la possibilità non solo di essere premiati dalla BCC di Fano per il nuovo arrivo in famiglia ma anche di divertirsi e imparare cose nuove visitando il museo e il planetario accolti e guidati dal personale della fondazione Villa del Bali. Nello splendido parco antistante la villa la presenza del vescovo Armando Trasarti e del vice sindaco di Colli al Metauro Andrea Giuliani sono stati premiati 88 bebè. Salgono così a 1048 i nuovi arrivati figli di soci e di dipendenti premiati dalla BCC di Fano dal 2010 ad oggi. Abbiamo passato un traguardo importante, un'attenzione particolare alle giovani coppie quindi un libretto di risparmio aperto a nome del figlio quindi voglio dire nella logica anche della BCC di Fano che ha come obiettivo dal proprio statuto dell'educazione al risparmio e alla previdenza quindi è un piccolo tassello iniziale sul quale puoi costruire un futuro quindi la banca accompagna la persona diciamo a 360 gradi. Grande interesse inoltre è stato l'intervento dello psicologo e psicoterapeuta Mario Della Dora che rivolgendosi alla platea ha trattato alcune delle questioni più complesse che un genitore deve affrontare nell'educazione di un bambino nei primi tre anni di vita come il ruolo del padre, la scelta del nido, il ruolo dei nonni e molto altro ancora. Tutte queste tematiche saranno approfondite da Della Dora in occasione di un ciclo di incontri gratuiti che si terranno nel mese di ottobre. Cosa fare per aiutare un bimbo a crescere in una situazione equilibrata, sana e portatrice di uno sviluppo molto positivo e scevolo da problemi. Cambia il contenitore ma non il contenuto è lo scopo dell'iniziativa, anzi la si vuol maggiormente enfatizzare e caratterizzare creando come è avvenuto per questa edizione una giornata di vera festa per le famiglie che possa restare nei loro ricordi migliori. È una bella occasione per ritrovarci con le famiglie, con i bambini, quindi sicuramente credo che aver distinto questa iniziativa del bonus bebè rispetto alla festa del socio che facciamo poi nell'occasione, diciamo sempre la prima decada di settembre, sia importante perché ci consente di valorizzare la famiglia. La famiglia è un riferimento importante, è una qualcosa che ha anche una rilevanza chiaramente dal punto di vista economico ma lo è anche dal punto di vista sociale, culturale. Noi la famiglia dobbiamo cercare di aiutarla a crescere nei valori e nel mantenimento anche di un rapporto con la nostra banca.